una coppia è sempre loro Valentina e Corrado che stanno venendo qui è sempre tutto, una vita, guardate qua, guardateli qua, guardateli qua guardate qua che coppio questi ragazzi proprio che mi piace sono affiatati, sono aperti come coppia è come me sono, all'improvviso all'improvviso si succede il 48 no perché a me Corrado, a me Corrado abbiamo un problema di sera perché all'improvviso e poi c'è la nostra la sera siccome noi non siamo noi ci vengono delle fantasie in te no lui è come me la sta già, ecco qua poi c'è anche la nostra mamma mia che carattere c'è anche la nostra cinesina che è come Valentina vabbè noi ci prendiamo un po' di sole e ce ne andiamo il mio motto è sempre quello là o me lo faccio di come a me o me lo faccio di come a me faccio di come a me faccio di come a me vabbè appena i ciabetti che faccio di come a me ciao